Sapete qual era la mia merenda quando andavo in campagna dalla nonna d'estate? Le focaccine di patate! Oggi provate a rifarle! Farina, patate, latte tiepido e lievito di birra. Aggiungo un po' d'olio, a questo punto unisco il resto dell'olio e il sale. Continuo a mescolare, poi passo sul piano da lavoro e inizio a impastare con le mani. L'impasto è pronto, adesso lo copro e lascio riavitare. Sgonfio con le mani, divido in tanti pezzi, creo le palline e le metto su una teglia con carta forno. Di nuovo a riposo. Olio, acqua, sbatto con una forchetta e spennello le palline lievitate. Via di buchi, sale grosso e in forno per 20 minuti. Mia nonna quando erano ancora tiepide le cospargeva con un sacco di panna acida ed erano davvero buonissime. Era la mia merenda preferita da bambina e forse anche adesso. Mmm sono morbidissime. Allacciate il grembiule e provatele anche voi.